un carabiniere si presenta all'ufficio di anagrafe buongiorno buongiorno signore mi dica senta io avrei bisogno di cambiare nome cambiare nome cambiare nome purtroppo è un po difficile perché è difficile è perché un procedimento abbastanza lungo deve essere il giudice che deve stabilire se si può cambiare il nome ci deve essere un processo come si chiama lei io mi chiamo pietro merda a pietro merda sì sì pietro merda capisco e vabbè facciamo una cosa parlo col giudice e lo chiamiamo e le facciamo sapere va bene va bene così l'uomo si alza e se ne va dopo circa un paio di mesi viene chiamato dal giudice allora il carabiniere va dal giudice e il giudice gli domanda mi scusi ma lei perché vuole cambiare nome perché non mi piace signor giudice come si chiama attualmente io mi chiamo pietro merda a dice il giudice pietro merda capisco allora penso allora che sia una cosa fattibile come vorrebbe chiamarsi allora il carabiniere e io signor giudice mi vorrei chiamare giovanni oh yeah Grazie a tutti